I dati stanno migliorando, è chiaro che abbiamo da sistemare la questione dell'umido, ci stiamo lavorando per sbloccare gli impianti, Sicilferd come Polo Tecnologico di Castatebrano e come tanti altri, quindi su questo vediamo dei miglioramenti, quindi i bravi siciliani che stanno, il problema rimane nelle città, ma abbiamo intavolato anche qui una sana dialettica, poi il ministro ieri ha finalmente divinuto anche l'idea di fare un tavolo tecnico e andiamo avanti. Ho capito, e nelle città quando si prevede si potrà cominciare, le principali città siciliane ad avere la differenziata? Allora, beh, Catania adesso non fa più la proroga dell'appalto, ma bandito una nuova gara, sistemando alcune cose, Catania è la più indietro, prendiamoci chiaro, ma non per colpa loro perché evidentemente stanno pagando lo scopo in tutta la gestione come avveniva e come è stata boicottata.